Siamo pronti? Pronti La comodità eh, anche io lo vorrei a casa Così o no? Ciao a tutti Siamo sul lago di Margozzo Che è stato dichiarato il lago prealpino più pulito d'Europa Siamo ospiti di Marco che ci ha invitato Ciao a tutti Che è la guida più famosa qui del lago, anche perché è l'unica E tra l'altro oltre a fare il servizio guida Noleggia delle bus boat appunto per la giornata di pesca Siamo a metà agosto, giornata caldissima Vediamo se anche in una giornata così il lago può dare qualche pesce Però appunto Marco ci dice che qui mangiano, che si prendono o no? Speriamo 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 di prendere qualcosa Anche perché la temperatura dell'acqua è ottima Andiamo 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 Cosa succede? Si vedono gli alberani Ma che cacciata? Quello era grosso Eh si continuano Quello era un petardo Siccome stanno cacciando su dei pesciolini del genere Proviamo ad imitarli Buonasera Faccio Faccio ma che carino Un pochino Tony Molina Prendeci un po' adesso di questo è un mostro ma ho visto che stavano cacciando su dei pesciolini li ho messo su una roba microsoft guardate al limite della lanciabilità un bel pesciotto un chilo di pesce ma quanto cazzo tirano pensavo fosse 2 kg da quanto tirava no veramente sai magari qualcosa tipo questo coso qua che giusto per fastidio ecco ecco grande bello si per me non c'ho troppo non c'ho ciao sono un buon calore ho mangiato un peso meno sembra di fare il bagno della san pellegrino salve signore siamo la rai ci sono 197 gradi tasso umidità del 400 per cento è la giornata perfetta per riuscire a pescare però fa un pieno caldo ecco ecco bello bello una fascina a 13 metri di profondità pescando texas un po pesante 12 grammi grande 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 grazie grazie gentilissima grazie a tutti 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 Vabbè dai carino Un altro same size Però va bene Molto buono Te l'avevo detto Abbiamo preso aneco a filo canneto E' un pesce lunghissimo Adesso vediamo quanto misura E' mangiato subito Sei libre E' 49 49 cm Grazie Andrà a pescare con Marco Non si prende un cazzo Ma basta Il vizio è top Salute ragazzi Almeno questo Non so bisogna pegare la per forza Thank you Viva 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 Ben finito ragazzi Sta terminato Qui fanno ancora il bagno E a Mergozzo peggio Non so bisogna pegare la per forza Grazie 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 E a tutti Buon appetito Grazie a tutti.